Eccoci qua, la prima puntata di Runners e Benessere nel 2014 si riparte dal negozio del campione, si riparte con la corsa degli auguri si riparte oggi domenica 12 di gennaio parleremo con Valera Stranio, andremo a trovare gli amici dell'Atletica Futura di Finile Valdarno parleremo con Luca Penichi del suo nuovo libro e di tante altre cose partiamo con le nostre interviste prima di Valera Stranio siamo andati al Matassino nel comune di Finile Valdarno a intervistare Luca Panichi che ci racconta un po' di cose di come sta allenando, di cosa sta facendo gli amici dell'Atletica Futura che sono stati nel 2013 protagonisti in Toscana di tante cose sia nel corso su strada, sia nel cross e sia in particolare nella pista con Fabio Meini, presidente e tanti altri personaggi subito dopo andremo a intervistare le ultra maratonete che sono allenate da nostro amico Luca Panichi tra cui Barbara Cimarusti recentemente decima ai campionati europei sulla 100 km quindi vedetevi questa prima parte molto carina e poi torneremo con voi con una seconda parte con Valera Stranio rimanete con noi eh il campo è quello del Matassino, Atletica Futura con Luca Panichi che abbiamo ripreso oggi un po' di cose che tra poco vedrete tanti ragazzi che si allenano qui in questo campo mi dai un po' di numeri dell'Atletica Futura Sì oggi tanti però non siamo tantissimi perché quando siamo in completo tra te serate e tutti qui ci gira più di 280 ragazzi quindi oggi non ce n'è tantissimo ovviamente sono giorni di festa quindi solo piccoli gruppi, piccola rappresentanza però siamo in tanti siamo in tanti, una società insomma che siamo in via di sviluppo tanta gioventù, tanta attività quindi penso che comunque l'Atletica è viva L'Atletica Futura ai risultati del 2013 come sono stati? Diciamo ottimi perché a livello giovanile dalla categoria ragazzi dove abbiamo sbancato tutto in Toscana abbiamo vinto un titolo CDS di corsa campestra a livello ragazzi un CDS di corsa in montagna staffetta di corsa in montagna abbiamo vinto il CDS in pista categoria ragazzi abbiamo vinto le staffette abbiamo vinto le gare indoor quindi a livello di ragazzi a livello di società abbiamo vinto tantissimo per quanto riguarda a livello assoluto penso che comunque a livello assoluto ormai siamo protagonisti da anni sia col maschile ma quest'anno anche col femminile abbiamo fatto un risultato storico direi perché è storico non solo per la provincia di Firenze ma è storico per la Toscana una squadra femminile nel cross-corto dove arriva sul podio e vanta a noi solo fiamme gialle e forestale quindi voglio dire che penso sia un risultato altrettanto importante Ricordiamo com'è composto il vostro staff Partiamo dal presidente che è Fabio Meini dal vicepresidente Marco Nencioni dal direttore sportivo Davide Zianobini dai due direttori sportivi per quanto riguarda che si occupano delle categorie giovanili dal settore promozionale alla categoria cadetti che sono Lorenzo Schiera e Davide Castellucci a due direttori tecnici che si occupano del settore assoluto cioè della categoria allievi in su che sono lo sottoscritto Luca Panichi e Nicola Cipriani e poi ovviamente tanti settori c'è anche il settore velocità dove il responsabile è Fabio Venturini ma grazie veramente a tutti i tecnici a tutti i tecnici che siamo tantissimi a tutti i ragazzi da Davide Castellucci a Valentina Saraceni a Lorenzo Schiera siamo veramente in tanti quindi una grande famiglia per un solo amore che è quello dell'atletica sponsor ovviamente la Cucoglieria Fiorentina la Corrozzeria Futura e poi tanti la Bardal e poi altri ancora Cosa vi aspettate come atletica futura nel 2014? Nel 2014 ovviamente l'obiettivo è quello di fare sempre meglio di fare sempre meglio di far crescere il nostro vivaio perché abbiamo dei ragazzi interessanti soprattutto molte individualità a noi ci manca un impianto ci manca un impianto e penso che sia il problema di tutti però a noi con tanti numeri perché comunque abbiamo i numeri quello che conta i numeri come nell'atletica contro il cronometro noi abbiamo i numeri però ovviamente ci manca ci manca quella pista quella pista regolamentare di 400 metri quegli spazi adeguati per fare un'attività importante ma comunque insomma credo che pian piano voglio dare anche un ringraziamento all'amministrazione comunale di Finivaldano che sta facendo che si impegna abbastanza però ecco ancora sono convinto che la strada è buona ma ancora c'è da tanto da fare dopo vedremo anche le interviste delle ragazze alcune nazionali di ultramaratona che cosa ti aspetti da loro nel 2014? sicuramente per quanto riguarda la Cicmar Rusti penso che l'obiettivo fondamentale sia di fare il mondiale quindi i mondiali ci sono il 30 di agosto in Lettonia e quindi penso che l'obiettivo primario è quello lì il 30 di marzo ci sono i campionati italiani individuali della 100 km a Seregno quindi altro obiettivo importante ma prima di Seregno c'è anche la Stratrasimeno dove la Barbara Cicmar Rusti hanno scorso avvinto quindi penso che questi siano gli appuntamenti clou di questa stagione e poi ricordo anche l'altra nazionale Katia Alcherigi Katia Alcherigi ha avuto anche lei azzurra e quest'anno è un new entry per quanto riguarda la nostra società è venuta a correre con noi perché comunque la seguo io quindi l'obiettivo di Katia è tornare in azzurro è passato quasi un anno dal un 14 dicembre che sicuramente non te ne dimenticherai velocemente hai scritto un libro la mia corsa continua e tante altre cose tante iniziative Luca Panichi che cosa dice di questo ultimo anno di Luca? Sì è stato un anno un po' terribile però alla fine come ho detto sempre il 20 di novembre del 69 è la mia data di nascita ma vale solo per l'anagrafe perché il mio compleanno è stato il 14 di dicembre perché è stato come nascere e morire come morire e rinascere un'altra volta e quindi ti vedi la vita in un altro modo l'atletica per me è vita la passione che ho è tantissima di andare avanti la forza l'energia e quindi penso che sia fondamentale certamente non è stato un anno facile il libro è stato un mezzo importante vedo che comunque sta riscuotendo un ottimo successo ma non è tanto un successo letterario perché io ripeto non mi reputo scrittore non sono uno scrittore sono un passionale sono uno che scrive col cuore quindi quando si scrive col cuore tutti siamo scrittori e tutti possiamo esprimere le nostre emozioni e la cosa fondamentale è che il messaggio sta arrivando come si può trovare il libro magari qualche negozio tramite te facebook dacci qualche indicazione allora il libro non è ovviamente cioè in vendita nel senso non si trova nelle librerie diciamo alcuni libri ce l'hai anche te quindi ti darò alcuni libri anche a te quindi qualcuno si può rivolgere anche a Fabio Fiaschi e poi anche con Piero Giacomelli quindi chi volesse anche contattare Piero Giacomelli può avere i libri o se no qualcuno mi può mandare un messaggio per me o su facebook e farò recapitare il libro il libro è offerta libera non ha un prezzo di copertina e quindi è un'offerta libera quindi il ricavato andrà una parte al reparto oncologico di Santa Maria Annunziata e una parte andrà all'associazione alla Onlus di Piero Giacomelli poi voglio visto che mi dai la possibilità di dire anche che se ci sono associazioni Onlus che vogliono organizzare delle serate delle chiacchierate per la promozione del libro e non solo anche per ascoltare il mio messaggio per la mia esperienza ecco in quell'occasione lì io il ricavato della vendita del libro lo do alle Onlus e a qualunque tipo di associazione che ovviamente ha uno scopo benefico siamo in compagnia con tre atlete del settore femminile dell'Atletica Futura partiamo da Katia Alcherici una new entry dell'Atletica Futura ricordo azzurra di Ultramaratona nel 2013 ha partecipato al campionato europeo di Belves Katia esperienza con questa maglia Atletica Futura il 2013 un bilancio tuo nel 2013 e cosa ti aspetti nel 2014 beh sicuramente nel 2013 la partecipazione agli europei a Belves nel 2014 intanto cominceremo con il 30 marzo i campionati italiani della 100 km a Seregno primo obiettivo del 2014 passiamo con Rosa Cusello io la definisco l'Atleta Naif dell'Atletica Futura perché lei è abbastanza eclettica non sappiamo mai quello che fa però dobbiamo dire che in questi anni che qui con noi nel cross ha dato una mano importantissima è salita lo scorso anno su un podio nazionale addirittura arrivata terza squadra alla finale di Roma di Rocca di Papa e Rosa Cusello era sul quel podio con Sara Desideri con la Keniana Cebet e con Alessia Pistilli oltre a Stefania Dall'Asta quindi iniziamo da lì per poi raccontarci la tua stagione del 2013 beh sicuramente quella è stata l'esperienza più bella del 2013 poi altre cose lo sai benissimo sono un po' così naif come mi definisci te mi diverto speriamo nel 2014 meglio passiamo a un'altra un'altra azzurra ormai ha fatto un 2013 forse uno dei più belli della sua carriera campionati europei di Belvest della 100 km dove ha conquistato un ottimo decimo posto una medaglia di bronzo a squadre oltre al secondo posto con 5 minuti in meno rispetto allo scorso anno sulla pista a betone e tanti successi vincitrice della maratona di Ravenna vincitrice della maratona di Ferrara secondo posto al Lamone 8 maratone nel 2013 oltre alle ultra oltre a 100 km quindi si parla di Barbara Cimarusti ho dimenticato qualcosa? Sì della vittoria della Strasimeno che secondo me è molto importante perché insomma è un bel traguardo infatti poi da lì sono partita per la 100 km a Belvest adesso per quest'anno vediamo un po' come insomma se riesco a riconfermarmi in maglia azzurra al mondiale della 100 km che si dovrebbe svolgere in Lettonia se non mi sbaglio bene adesso andiamo a vedere la chicca di questa puntata un'intervista a lei che è la nostra super maratoneta Valeria Stranio un 2013 per lei con la medaglia d'argento nel campionato del mondo di Mosca agosto e poi col quinto posto alla maratona di New York è ripartita la grande Valeria è ripartita la grande con 2014 per lei i campionati europei e non solo andiamo a sentire cosa ci ha detto dal raduno di Piombino in quel di Baratti qualche giorno fa zona di Baratti precisamente in questo bellissimo posto Poggio L'Agnello che con Valeria Stranio che adesso andiamo a intervistare per fare un po' il punto con te di quello che è successo nel corso di questo anno un 2013 con il secondo posto a campionati del mondo un quinto posto alla maratona di New York in due parole come lo racconteresti? è stato un anno molto impegnativo molto bello intenso che mi ha dato grandissime soddisfazioni soprattutto alla maratona dei mondiali che appunto ho agguantato questo secondo posto che non mi aspettavo quindi è un anno veramente positivo bene allora a questo punto pensiamo un attimo quello che penserai di fare nel 2014 campionato europeo tante altre maratone sicuramente la vice campionista del mondo in questo momento potrebbe fare tante gare tanti inviti come pensi di impostare la tua stagione il prossimo anno? Allora mi piacerebbe fare una maratona in primavera io sto pensando alla maratona di Londra però sto ancora diciamo decidendo il da farsi e poi fare i campionati europei cercare di farli al massimo un'esperienza passata qualche settimana fa alla maratona di Firenze dove hai fatto la spingitrice si dice così degli atleti disabili col gruppo dei maratonabili che cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Sì è stato bellissimo io sono con il gruppo dei maratonabili dall'anno scorso venire riuscita appunto ad esserli con loro a spingerli per motivi di organizzazione mia che avevo delle altre gare delle altre cose da fare e quindi quest'anno sono riuscita finalmente ad essere con loro proprio a spingere Caterina che è questa ragazza disabile e mi ha dato tantissimo questa esperienza perché ho visto proprio la gioia anche dei familiari di questi ragazzi che si esprimono non a parole però appunto a gesti o con il linguaggio del corpo e ho visto proprio tanta felicità in loro quindi è stata un'esperienza veramente bella Ricordiamo come si compone tutto il tuo team che ti senti di ringraziare per ovviamente un 2013 per te ricco di soddisfazioni Innanzitutto la mia allenatrice Beatrice Brossa che mi segue dal 2001 e a lei devo tantissimo ho fatto tanti miglioramenti grazie a lei è sempre con me e mi sento proprio di ringraziarla col cuore poi mio marito logicamente che mi aiuta tantissimo anche con i bambini e nell'organizzazione familiare la Runner Team 99 che è la mia squadra anche la Nike responsabile della Nike Venus de Neon Gabo il fisioterapista Maurizio Dorizzi che mi aggiusta sempre il dottor Pierluigi Fiorella che appunto anche lui mi dà sempre degli ottimi consigli e il dottor Nicola Sponsiello Giorgia Consavella e David Zamburlin che sono i miei osteopati di riferimento in Alessandria siamo a Baratti nel comune di Piombino provincia di Livorno e alla fine di gennaio qui proprio con Beatrice la tua allenatrice inizierai una nuova diciamo così una nuova esperienza più che attività una nuova esperienza sarà possibile imparare qualcosa tramite voi soprattutto tramite la Beatrice la tua allenatrice che cosa sarà intanto il 24 25 e 26 di gennaio sarà il primo momento che cosa succederà la Bea appunto ha deciso di organizzare questo stage di allenamento finalmente perché secondo me potrebbe essere veramente una bella occasione per imparare o per correre tutti assieme quindi ci sarà questo stage qui al Poggio all'Agnello e di tre giorni speriamo insomma che ci sia tanta gente l'occasione ci sarai anche te quasi sicuramente quindi sarai con queste persone sono contentissima di essere qua finalmente al sole perché in Alessandria in questa stagione non è che ci si alleni proprio benissimo qua riesco proprio ad essere tranquilla rilassata e il clima è sicuramente dalla nostra parte ciao a tutti grazie a Valeria è fisioterapista che ci ha dato la mano per l'intervista grazie a tutti